Voglio tornare ai nazionalismi, tu hai parlato del pericolo dei nazionalismi. La Spagna ha provato sulla sua pelle due scontri, due battaglie con due nazionalismi diversi nell'ultimo mezzo secolo. Uno il nazionalismo basco e l'altro quello catalano. In giro nell'Europa, anche in Italia, hanno avuto anche un percepito che fossero delle battaglie di libertà. Ci sono paesi democratici dove sono proibiti, questo si dimentica, ma sono espressamente proibiti le associazioni e i partiti indipendentisti come la Germania, per esempio, ma in Spagna no. Ma quello che non è legittimo è violare la legge, cioè violare le regole del gioco. E da questo punto di vista, quello che è successo nella Catalogna nell'autunno scorso, io lo chiamo un autocolpo di Stato postmoderno. Che cosa vuol dire questo? Un autocolpo di Stato postmoderno. Ecco, esattamente. Cioè, il colpo di Stato tradizionale, questo infatti, il colpo di Stato tradizionale è stato Tejero, cioè è stato un colpo di Stato moderno, cioè antico, cioè con un uomo che arriva con il pistoletto e fa PNPM e decide militare. Questo è stato un autocolpo perché è stata una parte dello Stato, cioè il governo catalano, che ha violato la Costituzione catalana, la Costituzione spagnola e anche la legge internazionale. E lo ha fatto coscientemente. Questo non è un movimento di liberazione. Questo è un movimento che va contro le regole dell'Europa, cioè lo Stato di diritto, cioè la democrazia, cioè il rispetto delle regole. I mesi di settembre e ottobre dell'anno scorso hanno stato i peggiori mesi della mia vita. La situazione nella Catalogna è stata durissima. Io ho parlato di un'atmosfera pre-bellica, cioè c'era uno stato di confrontazione assoluta. Perché? Perché il 6 e 7 di settembre nel Parlamento catalano si hanno approvato due leggi che hanno stato lo scatenamento di questo colpo di Stato di cui ho parlato. La legittimazione di questo colpo di Stato era il referendum fraudulento dell'1 ottobre e dopo la declarazione di indipendenza. Per questi due mesi la situazione reale è stata terribile.